I fatti contestati dalla magistratura barese si riferiscono agli anni 2008-2010. Sei persone sotto la guida dell'imam tunisino della moschea di Andria, Ben Nassem, di 47 anni, studiavano in rete le tecniche per costruire ordigni ed esplosivi, si addestravano in Sicilia, sull'Etna, ridevano delle chiese distrutte in Abruzzo dal terremoto, parlavano di odio, di sacrificio e di morte. Agli atti del processo barese ci sono materiale fotografico e video, documenti, intercettazioni telefoniche, poi le rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia, terroristi pentiti che hanno imparato a vivere un Islam di pace e non di guerra. Il culto della morte è l'elemento determinante che motiva il terrorismo jihadista, spiegava agli inquirenti baresi Jalassi Riad, sentito nel novembre 2009 durante le indagini su questa presunta cellula terroristica con base logistica ad Andria, nel call center gestito dal capo dell'organizzazione. E proprio all'interno del call center andriese si cercavano sul web e visionavano i video pubblicati nei forum jihadisti per imparare a fabbricare bombe, usare armi da fuoco e per il reclutamento di volontari mujeddin da avviare ai campi di battaglia in Afghanistan, Yemen, Iraq e Cecenia. Cinque di loro furono arrestati dai carabinieri del ROS nell'aprile 2013 e processati con rito abbreviato. Sono stati condannati ieri dal GUP del Tribunale di Bari Antonio Di Ella. Il sesto imputato, il marocchino 35enne Abu Ali, latitante, è stato rinviato a giudizio e sarà processato dalla Corte d'Assisi e Ribari a partire dal 14 aprile del 2015. La condanna più alta, a cinque anni e due mesi, è stata inflitta nei confronti del presunto capo Asni Akemi, condanne a tre anni e quattro mesi di reclusione per un palestinese e due tunisini, presunti componenti dell'associazione, coloro che, secondo l'accusa, cooperavano nell'attività di proselitismo, di finanziamento, di procacciamento di documenti falsi, tenevano i contatti con altri membri dell'organizzazione disponibili al trasferimento in zone di guerra. Dalle indagini sono emersi anche i rapporti dell'imam con personaggi di rilievo del terrorismo internazionale, già condannati in via definitiva per reati connessi all'attività sovversiva.